in questa quindicesima edizione di mille voci un'edizione devo dire molto più un po' diversa più grintosa più dinamica ci sono degli ospiti eccezionali quindi per cui a cominciare dai santo california a parte che siamo noi anche noi ospiti ci saranno anche altri ospiti graditissimi sicuramente da voi e quindi tutti su questa emittente a goderci il grande voci 2019 grazie seguiteci con il santo california grazie 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 grazie